Siamo tornati ancora una volta dal gioco, che ora sono arrivati dalla parte, ecco, sono già arrivati, Vegeta e Goku che si uniscono, che formano, che anzi fanno pure la fusione per pure loro, e ora si trasformano in Super Saiyan e Blue. Eccolo qua, iniziamo questa battaglia. Ok, con l'aiuto di lui possiamo riuscire a sconfiggerlo, senza problemi. Con la mia finale, l'ho colpito in pieno, ero vicinissimo. E' più potente di me, a loro, però... Sto spavendo in Super Saiyan il terzo livello. Come è il mio finale? Anzi, Anzi, con l'aura. Sono tornato in ormai, ho sbagliato. colpiamolo con la camioneta, così ci riusciamo colpito alle spalle, ce la possiamo fare mio dio, mi ha colpito da vicino fai colpiamolo con la camioneta, vedi e bendo, faccio il mio vicino non sono riuscito ecco, non l'ho attaccato, avevo paura se mi colpiva camioneta, big bang vediamo se ci riusciamo a colpillo, sì e ce l'abbiamo fatta se l'abbiamo colpito no, di nuovo andiamo al mio finale colpiamolo prima per lo scaravento, niente, non ce l'ho fatta vabbè io lo colpisco vabbè io l'abbiamo così sconfitto vabbè abbiamo unito le due forze, lui con la spada il colpo di viaggiare che pure nel drago bozzetto lo sapeva usare vabbè così concludiamo e abbiamo vinto, conclusione e ce l'abbiamo fatta allora, penso che siamo giunti alla fine sicuramente, dove vedremo un breve filmato spero vi piaccia e ho preso grado Z sì abbiamo concluso ho fatto tutte le saghe fino alla fine ce l'abbiamo fatta, meno male spero vi sia piaciuto e spero godetevi questo video che ho registrato oggi spero vi piaccia ah vediamo questo filmato Zamoso è fortissimo scaraventato sia Goku, Vegeta che Trunks vabbè ora Trunks lo taglierà in due quindi lo sconfiggerà facilmente però gli daranno energia da ogni parte dell'universo oppure il futuro di Trunks quando era piccolino e quello è cresciuto eppure su Dragomo GT e altri pianeti che gli danno la loro energia per darlo a Trunks con lo foglio temporale che ha fatto Black Goku nel cielo ecco qua gli sta arrivando l'energia da ogni parte da ogni parte di questo pianeta guardate c'è Laura malvagia però non riuscirà a terrorizzare Trunks che però lo taglierà in due ecco ci sono trasferendo ora tutta l'energia da ogni parte dell'universo del piano di questo pianeta anzi del pianeta ecco pure Goku, Trunks, Pan di Dragomo GT è qua del futuro quando era vivo Gohan perché è stato sconfitto dai androidi, dai cyborg C-17 e C-18 ecco e ora lo sconfigge lo trafiggia con la sua spada luminosa con tutta la sua energia al diavolo la tua giustizia non te lo merito impossibile, non puoi essere e l'ha distrutto adesso andiamo a vedere l'ultima parte prima di chiudere questo video che abbiamo finito già il combattimento con Zamasu ora qua praticamente nel covo del tempo spunterà lui tipo il pianeta perché ora si impossessa del pianeta perché lascia il suo corpo da dio e praticamente ora il vecchio Kaido si spaventa allora saltiamo per vedere quella parte poi proprio è un idiota Goku che perde proprio nel futuro il pulsante per chiamare Zeno il grande di tutti i pianeti che può distruggere l'intero universo e poi anzi Goku riesce a trovarlo in tempo ecco qua sta crollando tutto ecco la spunta Zamasu che si impossessa del pianeta ammazza bruttissimo è venuto fino al nido del tempo ah no questo questo è fuori quindi questo è il nido del tempo questo è sbagliato però sembra il covo del tempo ecco dice quello che fa la sua scomparsa fa la sua storia quindi guarda ecco e Zeno distrugge sia Zamasu che il pianeta del futuro che poi viene ripristinato con le spalle del drog e così finisce questa storia di Black Goku e Zamasu di questi combattimenti e tu sia smanti ok penso che abbiamo concluso sicuramente si 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 abbiamo finito ce l'abbiamo fatto in tempo ho fatto 9 minuti di registrazione va bene spero vi sia piaciuto vedetevi gli altri video che ho registrato della storia di Black Goku i combattimenti con Black Goku Zanasu e questo ultimo fino alla fine va bene vi mando un bacio e spero di fare altri video poi vedo di fare le missioni parallele quando trovo il tempo e lasciate tantissimi like su questo video commentate vi prego commentate in tanti e al prossimo video ciao ciao belli grazie a tutti grazie a tutti